Amici Trevi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di martedì che vedrà l'anticiclone della zona e tornare a spingersi verso l'Europa centro-orientale interesserà anche l'Italia centro-settentrionale ma il sud sentirà l'influenza di una zona di bassa pressione presente sul Mediterraneo orientale e così al sud ritroveremo qualche annuvolamento nel corso della giornata soprattutto nelle ore pomeridiane quando si formeranno anche dei cumuli, cumuli che sono quelle nuvole che danno luogo ai temporali e così vediamo le precipitazioni previste per la giornata di martedì appunto nel pomeriggio spuntano acquazioni temporali su bassa Campania, Calabria, Basilicata e Sicilia orientale quindi in definitiva questo martedì sarà una giornata di bel tempo al centro-nord con tanto sole e temperatura elevata e supereremo anche i 30 gradi all'ombra. Il sud invece a tempo più variabile soprattutto come vi dicevo bassa Campania, Calabria, Basilicata e Sicilia orientale dove prevediamo dei temporali pomeridiani. Con questo è tutto dettagli sulle singole località scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.